cari amici di sibolo passion ben trovati un'altra puntata dedicata alla bolognese mare sta per cominciare io ancora non ho le attrezzature perché mi sto dirigendo verso lo spot perché perché lo spot francamente ha dei punti interrogativi quest'oggi non mi aspettavo una condizione di mare così formato ma sono ben felice di trovarla perché mare mosso vuol dire spesso anche catture interessanti a